Una perturbazione in transito sulla penisola, ma tenderà ad isolarsi sulla Corsica e la Sardegna. Nelle prossime ore, decisa rimonta dell'alta pressione sul bacino del Mediterraneo centrale. In Toscana, giovedì 11 aprile nuvoloso in mattinata, con schiarite dal pomeriggio, venti deboli moderati nord-orientali di maestrale nel pomeriggio sulla costa, mari poco mossi sotto costa mossi a largo, temperature minime stazionare in locale calo, massime insensibili aumento. Sul territorio provinciale, da coperto fino a Sereno, a Lucche sulla Piana, temperatura minima 11, massima 22 gradi, a Castelnuovo Garfagnane, zone montane, minima 10, massima 22, a Viareggio e sul litorale, minima 12, massima 20 gradi. Venerdì cielo ovunque sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento al di sopra delle medie stagionali.